ecco patrizia al centesimo giro è arrivata a vincere la bellezza di 50 e passa slotti il primo video purtroppo è andato oltre 7 minuti ma qua gira da circa 10 minuti siamo a 53 52 slot altri giri altri giri altri giri ultimi due giri grazie e arrivederci potetti canta 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 qui 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 merito della band toilette gich band oh 70 precisi precisi allée Dora M